società è avvolta dal mistero ed è avvolta e parte fondamentalmente da delle chiacchierate che l'autore ha fatto con un utente facebook non vi dirò il nome però se avete un po d'occhio e sapete seguire gli indizi ci arriverete anche da soli e conoscete appunto le opere di marco ci arriverete anche da soli però tornando a noi marco chiacchierando con questo utente account facebook avvolto nel mistero e nell'anonimato di un alias viene in possesso di un documento che racconta con dovizie di particolari e fonti ben citate la storia di massimiliano d'asburgo ed è proprio con questo documento che lui costruirà e prenderà spunto per costruire la storia della luce nell'impero o quantomeno la parte storica della luce dell'impero per cui per cui se di misteri stiamo parlando lo stesso romanzo nasce sotto l'aura del mistero e misterando misterando insomma parlando di mister parlando siamo arrivati anche alla fine della nostra book review scusatemi ma avevo perso il filo del discorso siamo arrivati alla fine della nostra book review vi ricordo di andare a sbirciare la storybook che abbiamo pubblicato sull'id sul sito www ladradilibri.com e come sempre ragazzi miei leggete 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 i libri e le nostre recensioni seguiteci sui canali facebook twitter instagram youtube pinterest forse anche qualcun altro ma ora non me lo ricordo ma soprattutto leggete 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 e come dice sempre la ladra avanti sempre grazie a tutti Grazie a tutti.